Exoratics, stai cercando l'auto perfetta per la città e la vuoi ibrida? Toyota Yaris, 1.5 di cilindrata, hybrid, allestimento, active, scopriamola insieme! Stiamo parlando di un autoveicolo aziendale che ha percorso meno di 35.000 km ed è certificato e garantito perché come tutte le nostre autovetture deve aver superato il test dei 150 punti di controllo dei nostri automotive expert. Inoltre è stata interamente ricondizionata sia nella meccanica che nella carrozzeria, di conseguenza è assolutamente pari al nuovo. Il colore è dark grey, discreto ma decisamente elegante, alimentazione ibrida, benzina più elettrico per un consumo reale misto di 3,7 litri ogni 100 km. I cerchi sono in lega da 15 pollici bicolor, cromati e nero lucido e il battistrada è in splendide condizioni. E il bagagliaio non è per niente male per essere una city car, è molto ben sagomato, con luci alogena di cortesia sulla sinistra e parte da una capienza di 286 litri che arrivano a quasi 600 litri abbattendo entrambe le sedute posteriori frazionabili 60-40. Il fatto che abbia 5 porte rende super agevole accedere all'abitacolo anche nella parte posteriore. All'interno troviamo tantissima comodità e non manca il brio grazie alle sedute in tessuto, bellissime in questa variazione su tre colori. E dotati di attacchi ISO fixa entrambe le sedute posteriori. 34.900 sono i chilometri percorsi e il quadro strumenti alla parte centrale in digitale. Il sistema di accensione è start and stop ed è silenziosissima. La plancia è essenziale ma molto curata e come è tipico di Toyota ci sono numerosi tagli trasversali come le bocchette della reazione che sono anche asimmetriche. Dal volante abbiamo accesso a numerosi tasti tra cui la gestione dell'infotainment e del quadro strumenti. Non mancano poi gli ADAS come sistemi di assistenza alla guida. Dal display incassonato al centro della plancia possiamo gestire tutto l'infotainment. A partire dalla radio possiamo connettere il nostro smartphone attraverso Bluetooth, accedere alle impostazioni di setup della vettura. Inferiormente troviamo invece la gestione del clima che è automatico e bizona. Presa da 12V e presa USB, il cambio è automatico mentre il freno di stazionamento è manuale. Possiamo poi impostare la modalità di guida che preferiamo tra eco e full electric. Ancora più sagomate, ergonomiche e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale e supporto lombare. Inserendo la retro abbiamo poi accesso alla retrocamera per parcheggi no stress. Eccoci arrivati al momento del piccolo reminder finale. Corri subito sul nostro sito raptics.com. Riserva la tua auto con un semplice click per 7 giorni con soli 100€ senza impegno e prenota una video call con uno dei nostri sales. Potrai ricevere la tua auto direttamente a casa tua entro 7 giorni lavorativi e la riceverai anche con garanzia europea. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto! Alla prossima!